La crisi del lavoro e i soldi che mancano per gli ammortizzatori in deroga. Insieme CGL, CISL e Will il prossimo martedì 16 aprile in piazza Montecitorio nella manifestazione che sarà conclusa dai tre segretari generali Camusso, Bonanni e Angeletti per denunciare la grave emergenza causata dall'insufficienza delle risorse a sostegno degli ammortizzatori sociali in deroga. In Abruzzo purtroppo la situazione è drammatica e in linea con quella nazionale. Basti pensare che nella riunione del CICAS dello scorso 20 marzo i dirigenti della regione e gli enti previdenziali abruzzesi hanno comunicato che a fronte di una disponibilità finanziaria di 19,5 milioni di euro prima tranche degli stanziamenti per l'Abruzzo previsti dalla legge di stabilità le domande presentate corrispondono ad una spesa pari a 42 milioni. Al mese di giugno pensiamo che le risorse stanziate possono essere sufficienti ma noi in modo preventivo vogliamo evitare di lasciare i lavoratori nell'incertezza. Abbiamo bisogno che anche se è possibile l'attuale governo trovi le risorse necessarie e che il Parlamento impegni il nuovo governo a risolvere questo problema insieme a quelli degli esodati che nel 2013 sono senza salario e senza pensione. Sono cose che riguardano l'emergenza sociale. Ci rivolgiamo al governo Monti e chiediamo che per la regione Abruzzo ci siano in aggiunta almeno altri 50 milioni per arrivare a un minimo di 90 milioni di euro. Come si sostiene però il reddito dei lavoratori e soprattutto come si riparte? Questo della Cassi Inderro è un punto essenziale del sostenere il reddito dei lavoratori che già hanno lavorato. Noi pensiamo che non siano sufficienti tra l'altro e quindi chiediamo alla regione Abruzzo di intervenire con proprie risorse e con propri interventi perché sennò diversamente noi, insisto, troveremo di fronte a una crisi sociale più che economica.